Buongiorno Giancarlo e ben giornato per questo nostro consueto appuntamento ehm incentrato come sempre su temi di stretta attualità politica o economica eh principalmente questa volta è proprio sul primo tema che abbiamo deciso di eh soffermarci faccio riferimento alle elezioni regionali duemil ventiquattro che vedono impegnate cinque regioni italiane quindi dopo la Sardegna e Labruzzo il turno di eh Basilicata Piemonte e Umbria eh direi delle elezioni regionali piuttosto divisive eh vorrei introdurre così questo argomento perché eh sicuramente c'è da dire che come sempre mettere insieme e tenere insieme delle ventate politiche diverse delle ispirazioni anche solo con sfumature differenti eh non è poi così scontato così facile né immediato eh quindi insomma ci sono stati un pochino di dietrofront di indecisioni ehm di rallentamenti eh su sulla tabella di marcia eh le coalizioni non sono del tutto in crisi direi però insomma ci sono stati eh un pochino quasi di battibecchi interni eh e quindi da un lato c'è la sinistra che arranca dall'altro c'è il centro-destra che si trova si scopre fragile quanto meno instabile indeciso eh penso insomma quanto è successo in Sardegna che in qualche modo è stato un po' un colpo per eh il eh lo schieramento al governo ecco io ti chiedo eh come giudichi questo questo scenario come pensi che eh queste due macrofazioni stiano affrontando la situazione alla luce delle elezioni regionali nel nostro paese? Beh eh Asia sappiamo che la maggior parte anzi quasi tutte le eh regioni italiane sono governate dal centro-destra che quindi deve cercare di mantenere il più possibile lo status quo non è accaduto per la Sardegna è accaduto per l'Abruzzo e prossimamente come hai detto tu vedremo prima la Basilicata tra circa un mese poi ci sarà il Piemonte che invece andrà al al voto in concomitanza con le elezioni europee e poi la fine verso la fine dell'anno eh come hai detto l'Umbria tutte regioni eh ripeto che sono governate dal centro-destra e come hai detto tu eh è vero a volte governare è un vantaggio perché naturalmente si hanno in mano le leve del potere eh a volte non è così perché appunto si possono anche creare dei dissidi interni come pare sia accaduto in Sardegna dove a mio parere tra i vari eh diciamo eh le le varie eh questioni che sono emerse all'interno del centro-destra la cosa che mi ha lasciato un po' più stupito è il cambio di candidato cioè eh se eh sto governando una regione e eh il mio governatore non ha fatto danni diciamo mettiamo così non che abbia fatto bene ma non ha fatto danni dovrei ripresentarlo se non lo ripresento è come se stessi dicendo il mio governatore non ha governato bene e questo è un messaggio negativo che va al all'elettorato in più sempre per parlare eh diciamo quello che a mio avviso è il motivo principale della sconfitta del centro-destra in in Sardegna è che la regione ha preso e ha fatto delle politiche che sono passate sopra ai comuni e allora qua bisogna fare un ragionamento insomma non è che quando andiamo a votare per le comunali eh ci siano elettori diversi come persone voglio dire rispetto a quando andiamo a votare per le regionali cioè sono sempre le stesse persone che vanno a a votare quindi se io faccio uno sgarbo ad un comune gli abitanti di quel comune alle prossime elezioni europee non mi daranno il voto quindi voglio dire quello che ha fatto che è stato fatto dalla giunta della Sardegna che ha imposto delle cose sopra i comuni e delle cose che insomma personalmente ritengo molto importanti ha fatto di delle politiche che ai comuni appunto della Sardegna non sono andate bene quelle politiche cosiddette green eh dobbiamo ricordare che devastano il territorio quindi la Sardegna appunto isola particolarmente apprezzata per le sue bellezze naturali bisogna fare attenzione prima di devastare il territorio e questo quindi ritengo che sia il principale diciamo motivo per il quale poi il centrodestra non è riuscito a confermare il proprio governatore poi dobbiamo parlare anche del centrosinistra che in Sardegna è riuscito a rimanere unito ed è chiaro che quando il centrosinistra riesce ad essere a rimanere unito può essere un'alternativa mentre se non c'è questa unione ovviamente non c'è storia quindi in in Sardegna è riuscito ad essere unito la stessa cosa l'ha fatta in Abruzzo solo che in Abruzzo non erano stati fatti gli stessi errori che erano stati fatti in Sardegna quindi in Abruzzo si è riproposto il governatore uscente il governatore uscente non che avesse fatto dei miracoli in Abruzzo ma non aveva comunque fatto diciamo dei danni e quindi è stato riconfermato tra l'altro ecco ultima cosa che posso dire in questo primo intervento tra l'altro dobbiamo anche ricordare che è vero che c'erano dei sondaggi che davano quasi un testa a testa per l'Abruzzo però io insomma nutro qualche dubbio su quei sondaggi a mio parere l'Abruzzo non è mai stato contendibile anzi il centrosinistra ha fatto quasi un miracolo ad arrivare al 47 e mezzo per cento 46 e mezzo per cento rispetto appunto il 53 e mezzo del del centrodestra quindi io lo ritengo un risultato eccellente per il centrosinistra che però ovviamente non è stato sufficiente perché bisogna superare il 50 per cento quindi queste sono diciamo la mia analisi per le due le due lezioni che già ci sono state cioè quella in Sardegna e quella in in Abruzzo vedremo ecco poi eh cosa accadrà per quanto riguarda a breve la Basilicata ma poi anche Piemonte ed Umbri ecco e a tal proposito eh introduci la mia domanda eh successiva perché in questo ehm questo dibattito dobbiamo sicuramente soffermarci sulle eh varie regioni eh chiamate alle urne quindi se abbiamo descritto la situazione eh in affrontata in Sardegna e poi in Abruzzo direi che è giusto anche provare a eh beneare un po' lo scenario che riguarderà invece le altre tre regioni chiamate alle urne quindi ti chiedo cosa c'è da aspettarsi ehm per le prossime elezioni e ehm come pensi eh ne riescano le le coalizioni eh che immagine sta dando il centrodestra di sé e che immagine sta dando il centrosinistra di sé alla luce di quanto è successo finora e di quanto potrebbe succedere? Allora eh dobbiamo pensare che eh rispetto a cinque anni fa cioè alle elezioni appunto regionali di cinque anni fa la situazione politica in Italia è cambiata di conseguenza il centrodestra è completamente eh sconvolto cioè sconvolto nel senso eh buono nel senso elettoralmente cioè cinque anni fa eh la Lega aveva intorno al trenta per cento e Fratelli d'Italia qualche punto percentuale oggi le cose si sono letteralmente invertite quindi è chiaro che da un lato eh la Lega vorrebbe ripresentare i propri candidati dall'altro eh forza eh scusatemi Fratelli d'Italia richiede ovviamente un un'attenzione maggiore e chiaramente eh avrebbe le sue buone ragioni quindi all'interno del centrodestra c'è questo cioè eh tra Lega e Fratelli d'Italia c'è un'inversione appunto di eh dell'elettorato eh forza Italia cerca in mezzo a queste due eh questi altri due partiti cerca di ritagliarsi la propria eh il diciamo la insomma di ritagliarsi il i propri candidati perché sono dei candidati obiettivamente credibili e diciamo con così quel dettor che eh tra i due litiganti il terzo gode cioè voglio dire può essere può essere proprio eh forza Italia a beneficiare di eh questa possibile io dico insomma eh così eh tra tra Fratelli d'Italia e eh e la Lega cioè questa differenza di voti rispetto a cinque anni fa pesa eh pesa enormemente quindi eh e pesa sulla eh sulla coesione del centrodestra facendo un ragionamento invece sul centrosinistra abbiamo quasi la cosa inversa nel senso che la consapevolezza che eh senza andare uniti il centrosinistra non ha proprio alcuna possibilità di ottenere qualche eh risultato apprezzabile fa sì che eh si superino tutte le divisioni all'interno del centrosinistra tutte o quasi naturalmente le divisioni all'interno del centrosinistra quindi il centrosinistra eh è da un lato costretto a stare unito in questo che si chiama che ormai giornalisticamente viene chiamato campo largo e eh appunto non avendo un'altra alternativa riesce a trovare al suo interno quest'unità che invece in altri momenti non riusciva a trovare oramai diciamo che la dal anche dal punto di vista elettorale sia abbastanza cementato perché da ormai da anni da un certo numero di anni sia il partito democratico che il movimento cinque stelle hanno più o meno sempre lo stesso elettorato quindi diciamo che appunto non è accaduta quella rivoluzione che invece è accaduta al centrodestra e questo aiuta a trovare una una coesione all'interno appunto ehm del dello schieramento quindi da questo punto di vista nonostante appunto le regioni siano state governate principalmente dal centrodestra politicamente è il centrosinistra ad avere un vantaggio cioè eh quel vantaggio che è sempre stato attribuito al centrodestra cioè di una maggior coesione all'interno appunto della coalizione adesso sembra un po' ribaltato cioè sembra che eh sia più coeso il centrosinistra per necessità ripeto ma è più coeso rispetto al centrodestra che vede questa diatriba fa fra la Lega e eh fratelli d'Italia questo mi sembra insomma di poter dire in questo mio secondo intervento. direi che è un'analisi eh assolutamente in linea con con la situazione con l'andamento anche politico dei due schieramenti e poi eh c'è da dire che inevitabilmente chiunque sia la forza politica al governo nel momento in cui ci sono le elezioni regionali eh tutti cercano un po' a ritirare le somme e quindi di eh comprendere come eh sta andando eh il il governo che direzione sta prendendo qual è la fiducia da parte dei cittadini per quanto come poi soprattutto accade nei singoli comuni spesso eh la situazione eh circostrita quindi in un territorio più ristretto non è sempre eh in linea con quanto accade a livello nazionale per cui spesso il cittadino può capitare se non spesso può capitare che eh tenda poi a indicare sulle urne fazioni politiche differenti a seconda proprio dell'area che sta ehm che è interessata ecco al al voto ma c'è un aspetto che indipendentemente dal dalle elezioni eh è evidentemente una piaga del nostro paese e non solo parlo della scarsa affluenza alle urne eh i numeri lo dicono chiaramente ormai il trend è confermato e va avanti da un po' di tempo ecco eh per concludere questo questo nostro eh dibattito vorrei proprio chiederti questo come giudichi ehm l'andamento eh elettorale eh l'attenzione anche politica da parte di noi italiani e c'è qualcosa che potrebbe in qualche modo contrastare il problema? È una domanda ovviamente impegnativa perché da un certo punto di vista verrebbe da rispondere che così ci adeguiamo a quello che è una un trend naturale che si vede un po' in tutti i paesi europei cioè eh buona parte del corpo elettorale non si esprime questo però insomma non non possiamo eh così accettarlo senza perché insomma la come come si diceva in una in una famosa canzone la libertà è partecipazione nel senso che più partecipiamo e più siamo liberi eh se se vogliamo quindi eh è una cosa che della quale bisogna fare molta attenzione a mio avviso è una cosa preoccupante il fatto che ormai quasi la metà del appunto del corpo elettorale cioè degli aventi diritto non si reca alle urne questo veramente secondo me adesso non arrivo a dire che è una piaga però è un qualche cosa che dovrebbe preoccuparci quindi in questo momento le elezioni le vincono quei partiti che riescono a portare i loro elettori al voto cioè che che cercano di motivare le persone per recarsi alle urne perché appunto oramai da tempo il il partito di maggioranza relativa se non addirittura di maggioranza assoluta è il partito della stensione e questo ripeto secondo me è un un aspetto che dovrebbe interessare di più il nostro la sia la nostra politica ma soprattutto le nostre istituzioni cioè io gradirei che appunto eh le nostre istituzioni chiamassero le persone alle urne cioè facessero indicassero che senza le elezioni cioè senza presentarsi alle elezioni la democrazia è zoppa insomma cioè eh adesso eh gli italiani arrivano da anni in cui andare a votare era ritenuto un dovere no? E quindi eh soprattutto nei nei primi decenni diciamo dopo eh che che è tornata la appunto la democrazia in Italia nei primi decenni abbiamo avuto dei delle delle partecipazioni al voto straordinarie proprio perché il corpo elettorale era formato da persone che avevano vissuto sulla loro pelle che cosa voleva dire non vivere in un regime democratico e quindi partecipavano e rendevano l'Italia io direi più democratica perlomeno tutto questo è durato fino alla prima repubblica quando in Italia avevamo una legge elettorale totalmente proporzionale e che quindi permetteva a tutti i partiti che eh si presentavano alle elezioni di essere poi rappresentati in eh in in Parlamento quando siamo passati al maggioritario mettendo una soglia di sbaramento è chiaro che partiti piccoli non sono più riusciti ad entrare in Parlamento questo ha creato diciamo un vulnus che ha portato poi sempre più italiani a ritenere che il proprio voto non poteva cambiare le cose e quindi eh questa stensione qua che ripeto a mio avviso è assolutamente da combattere quindi cerchiamo di dire agli italiani che esprimere il proprio voto è sempre un un segnale di libertà e di democrazia cose che dovremmo cercare di salvaguardare ovviamente perché sono le cose più importanti di uno Stato. Mi aggiungo a questo tuo appello a questo tuo messaggio perché sicuramente eh farsi in qualche modo portavoce in prima persona di un proprio pensiero di una propria opinione eh significa da un lato libertà e dall'altro tutelare la democrazia quindi eh direi che sono eh pienamente d'accordo e quindi insomma staremo un po' a vedere quali saranno i prossimi eh andamenti eh sperando o anche se probabilmente bisognerà pazientare eh ancora un po' in un cambio di rotta. Eh io Giancarlo ti ringrazio come sempre per le tue analisi, le tue descrizioni eh e staremo appunto a a vedere eh cosa sceglieranno gli italiani eh in a questo punto Piemonte, Umbria e Basilicata. Grazie come sempre ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie a te Asia e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.